Ogni epoca ha i suoi caratteri distintivi. Queste autostrade sono dei nostri giorni. Nessuno può pensare che una di queste autostrade sia stata costruita 800 anni dopo le altre. E lo stesso discorso vale per i templi. Non possono esserci stati 800 anni di intervallo tra la costruzione di uno e quella degli altri. Invece con le cattedrali gotiche abbiamo qualche dissonanza. Infatti è scritto che la cattedrale di San Patrizio a New York è stata costruita otto secoli dopo le prime cattedrali. Per esempio quella di Sainz o Saint Denis che risalgono all'anno 1130. E ne troviamo addirittura una in Cina, ben lontana dall'Europa. Delle cattedrali gotiche si dice che siano state un'espressione della religiosità e dell'arte europea a partire dall'anno 1000. Ma sebbene per ognuna venga indicato il periodo e gli architetti in realtà non si conosce tutto sulle procedure di costruzione, sui materiali usati e sulla tecnologia adoperata che ha consentito loro di superare i secoli. Andiamo indietro nel tempo. Prima dell'anno 1000, che secondo alcune interpretazioni delle scritture avrebbe dovuto precedere la fine del mondo, infatti da qualche parte era scritto 1000 e non più 1000, il panico si era diffuso nelle città e nelle campagne. Sorgevano ordini millenaristici e cortei di flagellanti attraversavano i borghi, cercando di espiare i peccati a furia di frustate. Mentre c'era chi cercava di esorcizzare la fine, spendendo tutti gli averi in continui festini. Poi l'anno 1000 arrivò e non successe niente. Le popolazioni si ripresero dallo spavento e ci fu anche un notevole aumento demografico. Anche nelle campagne ci fu qualche cambiamento. Fu rivoluzionato l'aratro. Questa fu la conquista tecnologica del periodo, l'aratro, che trasforma il vomere simmetrico in vomere asimmetrico e diventa pesante e potrà essere trainato da bui e cavalli, col collare a spalla. Nel frattempo i francesi preparano la conquista dell'Inghilterra, i monaci incoraggiano la raccolta dei fondi per le crociate e qualche re viene acclamato. Una sessantina di anni dopo, quando ancora riecheggiavano i rumori delle spade della battaglia di Hastings, silenziosamente cominciano a spuntare dal nulla alle cattedrali gotiche. Costruzioni mirabolanti che lasciano di stucco ancora oggi, tecniche mai viste prima, archi rambanti, altezze vertiginose, guglie slanciate, sottili ma potenti. Si tratta di capolavori che si spandono come piogge in brancia, Auster, Germania, Inghilterra, Europa tutte e non solo. Succede quello che era successo con i templi e le piramidi. Sorgono in ogni luogo del mondo come fondi. Le cattedrali sono talmente tante che non si riesce a tenere il conto. Come se fossero state messe lì già pronte. Non un'aguglia fuori posto. A Bruxelles la torre inimitabile merita pieno il suo nome. Significa che nessuno potrebbe imitarla. Si resta meravigliati. Pare che sulla Terra siano vissuti centinaia di migliaia di architetti eccezionali, menti superiori che con semplici paranchi riuscivano a erigere l'archedrali eterno. Come è stato possibile raggiungere questi risultati? Chi prova a capirci qualcosa di più si trova di fronte a una stratificazione di messaggi. Un calderone dove confluiscono cronologie improbabili, artefatti inspiegabili, biografie incredibili. Un enorme puzzle fatto di templi e torri, animali e santi, piramidi e colonne, obelischi e cattedrali. Chi cerca di percorrere la strada a ritroso rischia il sonno e la ragione. Meglio scegliere la pillola a blu come fanno molti dei ricercatori ufficiali.